Sto viaggiando in compagnia della viaggiautrice inglese Emily Law e del suo libro guida Donne indifese in Calabria nel quale racconta il suo viaggio svolto nella regione nel 1859 a cui aggiungo il mio racconto di borghi e città toccati dal nostro viaggio. Capodanno che giorno felice anche se trascorso fra Scille e Cariddi, gentile lettore, se ci hai seguite fino a queste rive infide e ti sei coraggiosamente imbarcato sulla nostra speronara dalle ampie vele diretta al reggio, possano i tuoi prossimi dodici mesi di vita essere agitati non più della sua pru appuntita che vira agevolmente fra i gorghi tumultuosi per vivacizzare la rotta senza disturbare la nostra fantasia sì che ogni gorgo non sia tanto vorticoso da preoccuparci e sia solo un preludio a una calma che verrà subito dopo. Cariddi ha una natura che non dà alcun fastidio paragonabile a quelli che può provocare in vita sua una persona maleducata. Scilla, scoglio incantevole, sorge di fronte come una tentazione allettante, tutta bella a distanza, ma che da vicino non dà tregua, poiché punte invisibili sotto la superficie delle onde pungono come rimorsi quelli che se ne allontanano fra i lamenti. marinaio, tieniti bel lontano da Scilla. A questa terra promessa si accede attraverso quella linea blu foriera di speranza che segna le spiagge dorate. Per la verità in mezzo c'è una fascia di mare mosso, ma ci sono persone che ci aiutano ad attraversarla e mentre ci portano sulle spalle gli spruzzi ci raggiungono, ci toccano, ci rinfrescano, ci fanno grazie di sé. Così gridiamo evviva Calabria, terra che pericoli romanzeschi proteggono dall'invasione dei viaggiatori. A guardia della spiaggia c'è un custode, ma anche una piccola offerta basta farlo passare dal servizio del governo nostro. Egli ci mostra con gentilezza la strada che conduce alla sua tana, un porticato rinforzato con pilastri che arrivano fino all'acqua, dove si rilascia un certificato di buona salute a tutti coloro che dai passaporti risultino incontaminati da contatti con paesi dell'est. Dopodiché, o piccoli bagagli davanti alla dogana, l'onore di portare alla locanda le vostre piccolissime presenze, suscitò un tale litigio da indurci a portarli noi stessi. Questa nostra intenzione allarmò tanto i litiganti da spingerli a far pace, promettendosi di dividere la ricompensa. Arrivati alla locanda di Sicilia, una semplice occhiata alle stanze ci fece tornare rapidamente al piano 18 per cercare un altro alloggio. Cambiamo rotta finché vedemmo la scritta Trattoria della Villa Nuova, su di una graziosa casa color rosa posta sul molo, sperando che il proprietario avesse qualche stanza libera. Ce ne mostrò due, con finestre e balconi affacciati verso il vicino Monte Etna, di cui in seguito adottò il nome come insegna del locale. Sul molo c'è un altro di questi posti semplici, che potrebbero così ospitare anche una grande comitiva di persone che si separano di notte per ritrovarsi insieme di giorno all'ora dei pasti, che venivano serviti in maniera egregia per lo standard calabrese, con deliziose varietà di pesce. Nel piattino di ogni cazzo da caffè c'era un bel sonetto su carta color rosa, con l'augurio di buon anno nuovo. Scilla anticamente era detta Ushigyu, il regino, è un comune della città metropolitana di Reggio Calabria, i cui abitanti sono detti scillesi, oppure in dialetto regino scighitani. Alexander Dumas, scrisse di lei, arrivai in città ammirando la sua strana posizione, costruita su un'altura discende come un lungo nastro sul versante orientale della montagna, poi girandosi a guisa di esse viene a discendersi lungo il mare. È la perla della costa viola, così chiamata, dalle scogliere tra cui dimorava il mostro cantato da Umero. Scilla è situata sull'omonima punta, il promontorio scilleo, proteso sullo stretto di Messina, che anticamente veniva infatti denominato stretto di Scilla. È rinomata località turistica, situata appunto su promontorio all'ingresso settentrionale dello stretto di Messina, una delle cittadine più pittoresche della costa tirrenica calabrese, situata ad anfiteatro di Gradante verso le due baie divise dalla mitica rupe a picco sul mare, sormontata dal castello che domina il porticciolo. È notevole centro peschereccio, ma anche agrumario, con pittoresca spiaggia ed approdo. È l'antica Scilleum, nota per il classico mito legato al suo nome. Sul promontorio sorse l'Opidum Scilleum, ricordato da Plinio, che col tempo crebbe di importanza. Scilla fu conquistata nell'800 d.C. dai Saraceni e nell'anno 1000 dai Normanni. Nel 1225 Pietro Ruffo, in lotta con Manfredi, ne fortificò il castello. Nel 1282 vi cercarono a scampo le navi di Carlo I d'Angiot dopo il fallito assalto a Messina. Devastata dal terremoto del 1783, fu contesa dal 1806 al 1808 tra francesi ed inglesi, nel periodo napoleonico, e nel 1712 sostenne vittoriosamente un assedio inglese. È uno dei centri più attivi della pesca al pesce spada. Scilla, una tappa speciale, che è innanzitutto un sublime momento di sintesi tra storia, mito e bellezza. Nell'abbraccio che Scilla riserva al visitatore c'è il racconto di un luogo che incanta il cuore e lo spirito, attraverso la forza evocativa del paesaggio, il calore della gente del posto, il fascino antico delle tradizioni popolari. Il toponimo Schilla, dal greco Cagna, richiama un misterioso mostro che sarebbe il responsabile di tempeste scatenatesi sul mare che determinarono la fine di molti naufraghi. Descritta da Strabone come uno scoglio simile a un'isola, Scilla mantiene tuttora i tratti di questo paesaggio. I suoi pochi abitanti furono degli abili navigatori e conosciutori delle rotte, notizia questa confermata da San Girolamo. Le origini sono antichissime, confuse tra mitologia, storia, leggenda e poetiche immagini alimentate per millenni dalla suggestività dell'ambiente naturale. Secondo la mitologia greca, Scilla era una ninfa marina che per gelosia fu trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle, l'odierna Messina. Al posto delle gambe ebbe sei teste di cane che latravano e lunghe code di serpente. La storia è raccontata da Ovidio nell'Odissea ma anche nelle metamorfosi. Nell'antichità, a causa dell'attenuità e precarietà dell'informazione, spesso accadeva che voci e dicerie col passare dei secoli si accrescessero. fama crescit e undo, dicevano infatti i latini, o anche rumor multafingit, fino a perdere il loro originario significato, talvolta addirittura trasfigurandosi in mitologia. E questo è il caso della pericolosità della navigazione all'imboccatura settentrionale dello stretto di Messina, ossia in corrispondenza del passaggio tra la penisoletta di Scilla in Calabria e il capo siciliano di Cariddi, pericolosità considerata tale da aggiungere addirittura a far derivare questi nomi da quelli di due mitologici spaventosi mostri divoratori di navigatori. Ma da dove nasceva allora questa paurosa fama di Scilla e Cariddi? Probabilmente una certa pericolosità per le piccole e leggere imbarcazioni antiche doveva esserci, ma questo evidentemente prima che i frequenti e devastanti terremoti e maremoti succedutisi nel corso del tempo in quella sfortunata zona ne avessero sicuramente mutato la geografia sottomarina. Il primo a parlarci di Scilla e Cariddi come mitici mostri sanguinari, come ho già detto, fu Omero nella sua Odissea, poema a cui poi tanti antichi scrittori si rifecero data l'autorevolezza della fonte. Nacque pertanto il detto, incappa in Scilla volendo evitare Cariddi, per significare cadere dalla padella nella brace. Ma in realtà Schillei, nome greco calabrese, e Carides, nome greco siciliano, avevano lo stesso significato, trattandosi infatti di due dei tanti nomi che allora nel Mediterraneo si davano ai gamberetti. Molto probabilmente dunque essere tra Scilla e Cariddi non significò in origine trovarsi tra due pericoli di pari gravità, come più tardi invece si fa intese, ma volle semplicemente dire se non è zuppa è pan bagnato. Cioè è inutile che tu te ne stia riflettere se far sosta a Scilla o a Cariddi, tanto sempre gamberetti dovrai mangiare. E dovevano essere anche crostacei molto buoni, perché si narra che il famoso buongustaio romano Apicio, autore di un ricettario di cucina, vissuto tra il 100 avanti Cristo e il 100 dopo Cristo, era talmente ghiotto di gamberi, gamberetti ed astici, che girava il Mediterraneo su una nave recandosi e fermandosi là dove c'era fama che si trovassero i migliori crostacei, e si fermò anche a Scilla e Cariddi. Secondo Palifato, Polibbio e Strabone, il primo nucleo abitato di Scilla risalirebbe ai tempi della guerra di Troia. Nella sua geografia scrive il geografo greco Strabone su Scillaion, originale denominazione greca del luogo. Dopo il fiume Metauro c'è un altro Metauro. Segue poi il promontorio Scillaion in posizione elevata che forma una penisola con un piccolo ismo a cui si può approdare da entrambe le parti. Anasilao, tiranno di Region, lo fortificò contro i Tirreni facendone una stazione navale. Impedì così che i pirati attraversassero lo stretto. Vicino infatti c'è il promontorio di Caenis, che è l'ultima estremità dell'Italia che viene a formare lo stretto. Infatti, in questa remota epoca si è soliti riconoscere nella penisola italica ondate di migrazioni di popolazioni iberico-liguri provenienti dal mare e dirette verso sud. Si ritiene dunque che tali popolazioni potrebbero aver fondato qualche villaggio lungo i terrazzamenti più bassi del crinale aspromontano sud-occidentale, digradante verso lo stretto. Trattandosi di popoli pescatori, presumibilmente elessero come area di insediamento il sito adiacente alla rupe centrale di Scilla, dove la presenza dei numerosissimi scogli agevolava la pratica della pesca, consentendo al tempo stesso la costruzione delle rudimentali capanne. Tale ipotesi è in parte avvalorata dallo stesso Omero, allorquando nel descrivere Crataglia come madre di Scilla, lascia intendere l'esistenza di uno stretto legame tra questa e la nascita del mito del mostrum scilleum, da intendersi sorto dalla prima frequentazione umana del tratto di mare antistante l'odierna cittadina. Dal momento che Crataglia è da più parti identificata con il vicino torrente Favazzina, ancora ai tempi del barrio, chiamato Fiume dei Pesci, se ne potrebbe dedurre che gruppi di popoli dediti alla pesca, giunti via mare lungo la bassa costa tirrenica, inizialmente siano approdati alla foce di questo fiume, dove era agevole praticare l'attività e successivamente si siano spostati più a sud, trasferendo la propria residenza presso la costa scillese, più ricca di pesci. In mancanza di precedenti testimonianze attendibili, circa le epoche più remote, si è propensi a far risalire la prima fortificazione di Scilla agli inizi del 500 a.C., allorquando, durante la tirannide di Anassilao, la città di Reggio raggiunse una notevole importanza che le permise di ostacolare per oltre 200 anni l'ascesa di potenze rivali. Strabone racconta che nel 493 a.C. il tiranno di Reggio, Anassila, il giovane, perporre fine alle reterate razzie perpetrate dai pirati tirreni a danno dei commerci aperti dalla città con le colonie tirreniche, avesse mosso contro di loro con un forte esercito, sconfiggendo e scacciando i pirati da queste terre. Per i tirreni, gli innumerevoli scogli e l'alta rocca caratterizzanti la costa scillese, costituivano un rifugio naturale ideale, luogo inaccessibile da cui dirigere redditizie scorrerie lungo le coste, nascondiglio sicuro per il bottino e baluardo di difesa contro eventuali controoffensive nemiche. Sorsero quindi contrasti e lotte tra i primi marinai e pescatori che avevano occupato la zona e i pirati tirreni, alla cui bellicosità forse si deve attribuire la causa dell'arretramento dal mare dei pescatori ostacolati dai pirati nella pratica su cui basavano il proprio sostrettamento. E ciò spiegherebbe il trasferimento di residenza verso la zona alta di Scilla, l'attuale quartiere di San Giorgio, attuato dalle genti marinare che si trasformarono quindi anche in agricoltori e cacciatori. Espertissimi nella navigazione, i tirreni avevano dominato a lungo dai contrastati padroni le rotte del Mediterraneo, esercitando il proprio predominio soprattutto nello stretto, grazie al presidio fortificato, posto sulla rupe scillese all'imboccatura del canale. Più tardi però vennero sconfitti dai reggini, il che segnò un momento significativo anche nella storia di Scilla, che venne considerata da Anassila un importante avamposto di controllo sulle rotte marittime. Mentre si assicurò il dominio sul territorio circostante, inglobando una nuova parte del territorio reggino, al tempo stesso Anassila ebbe cura di realizzare una stazione per le navi a capo Pacì, ordinando la costruzione di un porto dotato di un agguerrito presidio militare. L'opera di fortificazione dell'Alto Scoglio fu portata a termine dai successivi tiranni reggini, spesso impegnati in scontri con i pirati, come si è visto, che combatterono avvalendosi del porto fortificato appositamente costruito nella piccola borgata di Monacena, nascondiglio isolato, una zona anticamente riparata da alcune caverne poi distrutte. Verso capo Pacì, in un luogo inaccessibile, dal lato opposto allo scoglio. Baluardo della sicurezza dei reggini, la fortificazione di Scilla, dotata di approdo, fu di fondamentale importanza agli effetti del felice esito della guerra contro la pirateria, consentendo ai tiranni di reggio di opporre per lungo tempo una valida resistenza contro gli attacchi di nuovi nemici e contro i continui tentativi di rivalsa dei tirreni sconfitti. Agli inizi del 300 a.C., dopo la presa di reggio ad opera del tiranno di Siracusa, Dionisio I, che nel 386 a.C. aveva distrutto la flotta navale della città a distanza a Libari e nel porto di Scilla, fu la volta dei pirati tirreni, che tornarono a reinsediarsi sul promontorio scillese, dove ripresero a dedicarsi alla pirateria avvalendosi del preesistente porto fortificato fino a quando, nel 344 a.C., il prode timoleone di Corinto riuscì a sconfingerli definitivamente. Per quanto riguarda la successiva storia della fortificazione dell'imponente scoglio di Scilla, si ha testimonianza di come essa coincida con la storia delle vicende che hanno caratterizzato il regino all'indomani della tirannide siracusana. In tarda età magno-greca, lo scoglio scillese fu una fortezza, conosciuta come Oppidum Scilleum, successivamente potenziata nelle sue strutture militari durante l'età romana, allora quando Porto ed Oppidum costituirono un funzionale ed efficiente sistema di difesa per i nuovi dominatori del Mediterraneo. Alla fine del 200 a.C., durante le guerre condotte dai Romani contro i Tarantini, sostenute da Pirro e, in particolare, durante la prima e la seconda guerra punica, i cartaginesi, che avevano stretto alleanza con i Bruzzi e circolavano liberamente lungo le coste regine, furono fermati nella loro ascesa, proprio grazie alla estrema resistenza opposta loro dalla fortificata città di Scilla, alleata di Roma. L'importanza della Scilla latina cominciò però a decadere all'indomani della conquista romana delle terre siciliane, quando, dopo Reggio e Siracusa, Messina assurse al ruolo di nuovo caposaldo per il controllo dello stretto. Pur tuttavia Scilla, posta all'imbocco settentrionale del canale, continuò a costituire un'importante tappa da prodo lungo la costa tirrenica continentale, tant'è che nel 73 a.C., durante la guerra condotta dai Romani contro gli schiavi, la cittadina sembra essere stata prescelta da Spartaco, a capo dei ribelli, per accamparsi in attesa di poter attraversare lo stretto. La fuga in Sicilia, progettata dagli schiavi ribelli, con il ricorso a Zattere, costruite con legno di castagno, estratto dai boschi scillesi, non ebbe tuttavia alcun esito, a causa della presenza, a lungo lo stretto, delle minacciose navi pompeiane. Successivamente, il tratto di mare, antistante la cittadina, fu teatro degli avvenimenti che segnarono l'ultimo scontro tra Pompeo e i triunvili, conclusiosi nel 42 a.C. con la disfatta del primo. In quel frangente, il porto di Scilla offrì opportuno rifugio alle navi di Ottaviano, pressate dalla flotta di Pompeo, allorquando il futuro Augusto, nel tentativo di rimandare lo scontro finale ad un momento a lui propizio, colse l'importanza strategica di Scilla e, una volta liberatosi definitivamente dai rivali, decretò l'ulteriore fortificazione del suo porto. Dopo Ottaviano, non sembra che la fortificazione scillese abbia conosciuto nuovi rimaneggiamenti, sebbene la cittadina abbia continuato a detenere l'importante ruolo di centro marittimo locale come testimonia San Gerolamo, quando approdato nel 385 a Scilla, durante il suo viaggio verso Gerusalemme, ci ha lasciato testimonianza, nel terzo libro delle sue opere, circa la grande esperienza dei marinai scillesi, capaci di fornirli consigli assai utili per il buon proseguimento della navigazione. Lo stato di abbandono, in cui sembra trovarsi la fortezza di Scilla in tarda l'età romana, dipese dal fatto che si localizzava al di fuori degli itinerari terrestri percorsi dai barbari, durante le loro invasioni nel sud della penisola. Infatti, nel loro calare a sud utilizzarono i tracciati viari romani, rimasti agibili in quell'epoca di decadenza e, siccome Scilla non era allacciata alla via Popilia, unica strada consolare esistente lungo la costa tirrenica, ne rimase dunque estranea. Difatti, la via consolare Popilia, nel tratto più meridionale del suo percorso, non seguiva la linea di costa. Ai primi monaci basiliani, gli storici attribuiscono la fondazione del monastero e della chiesa di San Pancrazio, tra il 700 e l'800, naturalmente dopo Cristo, fortificati per volontà della stessa Bisanzio, che aveva affidato ai padri il compito di difesa delle coste dello stretto. Il terremoto del 1783 rappresenta uno spartiacque, importante nella storia di Scilla per la particolare violenza con la quale si abbatté sulla cittadina e anche perché rappresentò la fine di uno sviluppo economico che Scilla ebbe lungo tutto il 1700. Il successivo terremoto del 1908 costò a Scilla, come anche a Messina, migliaia di morti. Gli scillesi, per sfuggire ai violenti movimenti dellurici dopo il crollo delle loro abitazioni, si riversarono in massa sulla spiaggia pensando di essere al sicuro, ma un violento maremoto si abbatté sulla spiaggia, travolgendoli e finendo così di decimare la popolazione. Non si può parlare di Scilla senza parlare del castello ruffo di Scilla, che poi è la rocca di cui abbiamo parlato finora, talvolta noto anche come castello ruffo di Calabria, l'antica fortificazione situata sul promontorio scilleo proteso sullo stretto di Messina. Infatti il castello costituisce il genius loci della cittadina di Scilla, che è sicuramente uno degli elementi più caratteristici e tipici del paesaggio dello stretto e del circondario regino. La prima fortificazione della rupe di Scilla risale, come abbiamo visto, all'inizio del 500 a.C., durante la tirannide di Anassila, che fece iniziare l'opera di fortificazione dell'alta rocca per farla divenire un importante avamposto di controllo sulle rotte marittime. L'opera di fortificazione dell'atto scoglio fu portata a termine dai successivi tiranni e regini, anche questo l'abbiamo già visto, spesso impegnati in scontri con pirati. Alcuni scavi hanno portato alla luce strutture murarie del monastero basiliano di San Pancrazio, edificato verso la metà dell'Ottocento come difesa delle incursioni saracene. Ma nel 1255, per ordine di Manfredi, Pietro Ruffo fortificò ulteriormente la rocca, installandovi un presidio, mentre nel 1200 il castello fu ulteriormente fortificato da Carlo I d'Angiò. Nel 1469, re Ferdinando I di Napoli concesse il castello a Gutierre de Nava, un cavaliere castigliano vicino alla corte aragonese e originario della Germania, dal quale discendono i de Nava di Reggio, che fece eseguire nuovi interventi di ampliamento e di restauro. Nel 1543 il castello venne acquistato da Paolo Ruffo, che decise di restaurarne il palazzo baronale, poiché nel 1578 la famiglia Ruffo ottenne il titolo di principe di Scilla.